E' Natale, la festa della luce, l'inizio del testamento nuovo. Attraverso la musica, la poesia, l'arte, protestantesimo celebra la ricorrenza della nascita di Gesù nel mondo. Vi aspettiamo su Rai 3, domenica 25 dicembre alle 7 del mattino e successive repliche. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e RaiPlay, dove potrete vedere questa e tutte le altre puntate.